Nella sala consigliare della provincia di Matera, l'Ordine degli Psicologi di Basilicata ha ospitato un importante evento ECM sul tema strategie di intervento di assistenza e supporto ai soggetti con disturbi dello spettro autistico. Si è discusso di come sia possibile rafforzare gli interventi attraverso una proficua collaborazione tra i professionisti che operano in ambito sociosanitario e nella scuola. E' stato infatti evidenziato come risulti fondamentale lavorare insieme, sostenendo in particolare la sinergia tra medici, psicologi, pedagogisti e tecnici dell'intervento riabilitativo, oltre ad integrare le varie prassi, i linguaggi scientifici e le diverse visioni. Nel corso dell'iniziativa è stato anche sottoscritto un protocollo d'intesa per la promozione del benessere psicologico dei cittadini e della figura dello psicologo nei comuni materani, tra l'Ordine degli Psicologi e la provincia di Matera. E' una novità perché abbiamo utilizzato una nuova metodologia che si chiama il Problem Basile Learning, che mette a disposizione più professionalità che a un tavolo, condividono esperienze e conoscenze e si rapportano poi con gli esperti che sono nella seconda giornata, che ristruttureranno sicuramente cognitivamente il loro sapere. La provincia di Matera sta provando a fare da apripista anche su questa iniziativa. Qualche giorno fa abbiamo sottoscritto un protocollo per realizzare un ufficio per la giustizia riparativa qui presso la sede della provincia. Oggi invece un altro importante protocollo per dare la possibilità ai nostri esperti, ai nostri professionisti del territorio, facendo rete tra le istituzioni che diventa essenziale proprio per poter guardare l'interesse dei nostri cittadini e dare risposte concrete, dando l'attenzione giusta all'aspetto sociale, all'aspetto del benessere, della salute dei nostri cittadini. Grazie a tutti.